Sia lodato Gesù Cristo! Ciao a tutti! Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano, il Vangelo del Giorno domenica 26 novembre Festa di Cristo re dell'universo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! O Padre che hai costituito il tuo Figlio, pastore e re dell'universo, donaci di riconoscerlo nel più piccolo dei fratelli, perché quando egli verrà nella gloria, ci accolga nel suo regno di risurrezione e di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te o Signore! In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra «Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anche essi allora risponderanno «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me». E se ne andranno questi a supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore Lode a te o Cristo Nella festa di Cristo re dell'universo noi leggiamo il Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 quel passo che parla del giudizio universale. Ed è bene per noi ricordare che Gesù non è solo il principe della pace ovvero colui che mostra la sua potenza soprattutto nella pace che può donare ai nostri cuori, ma è anche re dell'universo, perché alla fine dei tempi ogni essere vivente comparirà davanti a lui e quello sarà un momento di gloria per chiunque è stato fedele e un tempo di vergogna per chi lo ha rinnegato. Gesù giudicherà ogni uomo e giudicherà con giustizia, non secondo le apparenze, non secondo l'abito religioso o l'abito civile che ciascuno di noi indossa, ma secondo la verità del nostro cuore e delle nostre azioni. L'albero non verrà giudicato dalla corteccia ma dai frutti che ha portato. E in quel giorno sarà ancora più evidente che la nostra adesione a Cristo la si può pesare solo attraverso le opere di carità che abbiamo saputo fare. Hai vestito una persona nuda? Hai approfittato delle vulnerabilità degli altri oppure hai cercato di restituirli alla loro dignità? Hai rinunciato a una parte del tuo superfluo per alimentare chi vive sotto la soglia del necessario? Hai infierito su chi è stato condannato a causa del male che ha fatto oppure hai cercato di offrirgli una via di redenzione? Ricordiamoci che Dio è molto vicino a noi quando il nostro cuore è aperto ma è anche infinitamente distante quando ci chiudiamo nei nostri interessi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen. E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica ciao ciao e abbi cura di te. Ogni tanto rimprovero beppi per quale ragione? O perché scava e tira su le piante e rovina le radici ma se no anche perché prende i sassi e si rovina i denti i suoi dentoni quindi è per questa ragione ciao